ciao ragazzole ciao ragazzi e ciao ragazze allora volevo fare questo piccolissimissimo video per dirvi che innanzitutto non ho avuto il tempo di farvi augurarvi diciamo un buon ferragosto ieri perché appunto non c'è molta linea quindi non riesco a caricare i video quindi ve li faccio oggi anche se in ritardo vi auguro un buon ferragosto e delle buone vacanze o comunque un buon rientro dalle ferie e colgo l'occasione in questo video per dirvi che se volete seguirmi sono anche su instagram penso che conosciate tutti instagram che è un sito dove si possono caricare delle foto tramite il cellulare e solo foto e qualche video di breve durata e si possono commentare con i mi piace appunto se volete seguitemi anche su instagram il mio nickname su instagram è maria angela tutto attaccato praticamente dovete scrivere in piccolo maria angela tutto attaccato maria angela 222 con 32 quindi vi lascio anche il nome esatto nell'info box così non potete sbagliarvi e sarei molto felice veramente se mi seguiste lì perché mi stanno seguendo tante persone straniere che non mi conoscono su youtube però mi farebbe piacere se mi seguissero più ragazze italiane che conoscono il mio canale youtube che quindi mi conoscono ecco e nulla spero che mi seguirete baci ciao